Presto la voce a Violante Vibora, poetessa amica di Carta Carbone, che l'ha anche presentata in uno dei suoi eventi extra festival. Come potrei ricostruire quella cosa? Avvenuta tanto tempo fa, avevo forse pochi anni, ne sono certa, non raggiungevo nemmeno i due, quando ti sentii prima di vederti, come un profumo che scendeva scrosciando giù dagli alberi. Non credo fosse primavera, troppo oro mi circondava e non erano i fiori, quindi, e nemmeno le foglie, ma una presenza larga, con me dentro, a bocca aperta. Sei tu? chiesi, e quella domanda la ripetei negli anni, vedendoti in tante forme e nei suoni che sprigionava il cosmo, per come lo esploravo, il bambino, la corolla, il gatto e la tigre, l'uomo caduto, l'amante nella città, e poi non bastava e chiedevo, sei tu? Nella luce del sonno, là avevi il volto che non ricordavo d'aver visto, strano e tutto proteso verso me, la tua rosa.